Buongiorno a tutti ragazzi qui Frost e bentornati in un nuovo video Allora ragazzi il video di oggi si apre con una domanda Acquistare o no Collector? Beh essenzialmente oggi voglio varvi la mia risposta In quanto è da circa due anni che ho iniziato a acquistare e collezionare Collector Edition Ma andiamo al punto perché acquistarle? Quando acquistarle e soprattutto con quale gadget? Ok? Bene Allora ragazzi non vi nascondo che in questi giorni ho acquistato, anzi ho proordinato La Collector Edition di Wolfenstein 2 The New Colossus Perché l'ho acquistata? Perché sostanzialmente l'ho pagata esclusivamente 50 euro Come ho fatto a comprare, a proordinare una Collector Esclusiva nuova a 50 euro? Beh sostanzialmente dando dentro dell'usato Che cosa ho fatto? Ho dato dentro Destiny 2 in quanto non entra nelle mie corde vocali di giocatore Proprio non riesco a giocarci Non lo sento mio come gioco Io il gioco devo sentirlo mio per far sì che mi diverta Per far sì che mi interessi del gioco Perciò ho dato dentro Destiny 2 e per solo i 50 euro mi sono portato a casa la Collector Edition di Wolfenstein Allora cos'è che ha di particolare la Collector per far sì che me la sono acquistata? Una figura Sì ragazzi esattamente La prima Il primo perché io ho acquisto le Collector Edition sono le action figure Oggi ragazzi vi ho portato Tre delle mie figure preferite della mia collezione In modo tale da farvi capire perché le ho prese E soprattutto per darvi alcuni consigli Di come sceglierle e come stare attenti a non beccare dei falsi Eccetera Allora partiamo da L'ultima che ho acquistato Che è appunto la Collector Edition di HrT4 of Events Sono un po' impolverate ragazzi perché sfortunatamente mia madre non mi fa acquistare delle cacchio di Delle cacchio di vetrinette quindi si impolverano sopra il mobile Però vi faccio vedere già che come potete vedere è una figure veramente eccezionale Perché l'abbiamo acquistata? Allora sostanzialmente io non avrei dovuto acquistare appunto la Collector Edition di HrT4 Ma quando sono arrivato al mio negozio di fiducia Jolly Roger Bay ragazzi Me la sono ritrovata 20 euro di differenza da quella normale che avevo preordinato Quindi ho detto scusami per 20 euro mi porta a casa questo? Cioè dai Insomma Anche perché comunque è perfetta come Come con come figure in sé Inoltre ragazzi bisogna anche contare che diventano veri e propri oggetti D'arredo Che è quello poi che succederà in casa di me e Luna Saremo pieni di action figure È normale Comunque ragazzi sostanzialmente che cos'è che mi ha fatto convincere Ovviamente il materiale è sempre un vinile molto molto fatto bene I dettagli i dettagli sono veramente interessanti Ma soprattutto ragazzi la prima cosa che dovete vedere in una figure è il volto Se il volto del personaggio s'avvicina o comunque è simile al personaggio appunto Qui state comprando il gioco o quello che è Allora compratela perché la prima cosa che vi deve convincere è il viso Seconda cosa gli occhi Gli occhi come sono dipinti come sono fatti E' importante Perché attraverso poi gli occhi della figure Voi tra virgolette dovete cogliere proprio pof Dire ok ci sta è figa la prendo E poi sostanzialmente ragazzi i dettagli che non si vedono Che cosa vuol dire dettagli che non si vedono Vuol dire sono quei dettagli che poi quando poi l'hai acquistata Arrivi a casa e dici Merda Esatto ed è proprio quello che ci ha affermato il Ginzwick Prima di acquistare una figure Una delle ultime figure che ha acquistato la luna Cioè Siri di The Witcher 3 Eravamo diciamo molto molto pronti ad acquistare Geralt Il problema qual era? A parte il volto che era fatto in modo veramente allucinante Un dettaglio che molti non hanno visto E sono rimasti inculati Cioè il disallinamento tra il fodero e la spada In pratica l'action figure di Geralt è messa in questa posizione E sta estraendo la spada dal fodero Il problema qual è? Che la spada fa questo movimento Cioè il fodero è qui La spada è qui No E quindi poi la luna ha preso Siri Che invece era in una posizione di attacco Con la spada retta Quindi non c'erano problemi Passiamo alla seconda figure di cui vado Veramente veramente fiero Il Ravenant di Doom Non penso ci sia bisogno di dirvi perché ho acquistato Questa figure A parte che ragazzi Se riesco a trovare Questa si illumina Un attimo solo Vedo se riesco a farvelo vedere in qualche modo No, non penso Però comunque Diciamo che Sotto al Ravenant Come potete vedere Si illumina di rosso Il che vuol dire che quando ce l'avete Al buio Eccetera eccetera Fa veramente veramente un effetto figo Questa bellissima figura ragazzi Era all'interno della Collector Edition Di appunto Doom Però io l'ho acquistata Fuori dalla Collector Perché l'ho acquistata al prezzo di 50 euro Al Modena Nerd Che appunto la rivendeva a una dei ragazzi Fuori dalla Collector Senza il gioco Penso che ho fatto veramente veramente Un bellissimo affare Perché comunque come vedete I dettagli sono veramente veramente perfetti La carne è fatta in modo allucinante Ci sono tutti i dettagli Proprio è curata nei minimi dettagli Proprio minuziosamente Ed è quello che mi ha fatto comunque convincere a prenderla Ma ve lo può dire anche la Luna Quando io l'ho vista L'ho presa in mano Mi sono messo così E ho controllato ogni cacchio di cosa Perché come sempre Come vi ho detto la prima cosa Che vi deve convincere Guardate che bello È il viso Perfetta E quindi questa qua è la seconda Figure La seconda Collector Che ho preso Ma Attenzione Una delle Collector Di cui vado più fiero E che mi ha veramente veramente Lasciato Di stucco È La Notre Dame Edition Di Assassin's Creed Unity Per quanto questo povero Cristo Di gioco sia stato malmenato Da Ubisoft Devo ammettere che Quella casa produttrice di merda Fa delle action figure Veramente Veramente Bellissime Come possiamo vedere Qui abbiamo un Arnaud Che tiene nella mano destra La bandiera francese Nella sinistra Il suo stocco E si trova su un gargoyle Appunto di Notre Dame de Paris Ma Il bello Di questa Appunto figure Sono i dettagli Oltre A Il volto Che Il volto Ragazzi Forse è l'unica pecca Che hanno le figure Della Ubisoft Grazie a Dio Coperto I dettagli Sono qualcosa Di veramente Allucinanti Io ve lo provo A far vedere Adesso da vicino Guardate La giubba Come è fatta bene La pistola Beh si può estrarre E la rimettiamo Nel suo fodero E comunque È veramente Veramente Bellissimo Anche il gargoyle Guardate l'effetto pieta È fatto veramente Veramente bene È un vinile Fantastico Gli schienieri Guardate che belli E niente ragazzi Queste erano Alcune delle mie figure Ora aspetto Un attimo Quella appunto Di Wolfenstein Del New Colossus Che in pratica È una realizzazione Del JB Blaskowicz Chiamato In questo episodio Terror Billy E se non La resistenza americana Viene chiamato In questo modo E in pratica Diciamo che Se andate a ricercare La confezione Della Collector Edition È un packaging Anni Fino anni 40 Inizio 50 Quindi quelli Dei supereroi I classici Quindi La visione Del personaggio In sé Con di fianco Tutti i font Belli Fatti bene Terror Billy Eccetera eccetera Quindi molto Accattivante Con all'interno Appunto la figura Alta 30 cm Con varie Si possono dare In varie articolazioni Quindi tra virgolette È Per farvi Una comparativa È un action man Con le varie armi Con le varie armi I vestiti In tessuto In tessuto E similpelle Eccetera È Molto 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 Bello Ovviamente Steelbook È Differente Però comunque Ragazzi Vi farò vedere Tutto quanto Quando arriverà Ragazzi Mi raccomando Se dovete Acquistare Un Collector Se siete Della mia Cioè Siete quelli Che preferiscono Le Collector Collection Figure E non i gadget Del cazzo Per esempio Citare Mortal Kombat 10 Che ti dava Il tatuaggio Da indossare Una ciofecata Collector Di World Tour Verchissima Che ti dava La catenina d'accesso Quindi la dog tag Scialbatissima E una borraccia Vabbè Si può essere utile Ma fino a un certo punto Quindi ragazzi Se dovete puntare Puntate su Le Collector Collection Figure Che non Deludono mai In quanto Dopo alla fine Avete un bellissimo Oggetto d'arredo Come questi qui E sostanzialmente Vi raccomando Guardate sempre Occhi Come è stesa la vernice Quindi come è steso Il colore Sulla figure E il viso Soprattutto Cosa importantissima Ah E ricordatevi I dettagli Che poi dopo Arrivate a casa E cazzo No Minchia Bruttissima Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Se volete vedere Altre Collector Che prenderemo In futuro Ricordatevi Di guardare sul canale Ci vediamo In un prossimo video E ciao ragazzi Grazie a tutti